Se avete bisogno di crediti passate dal link di iscrizione Se mettete il mio codice coupon avrete un piccolo sconto Ciao ragazzi bentornati sul mio canale Siamo qui oggi con un nuovo pack opening Ovviamente siamo come sempre con i FIFA Boins Comunque allora è uscita la squadra della settimana Come potete vedere c'è il Kun Aguero Guardatelo qua ragazzi Il Kun Ok non lo fa vedere c'è ancora la squadra della scorsa settimana Comunque il Kun Aguero, Bateng E mezzo Tosil Allora Tanto qua divisione ok Andiamo al negozio Regà io sarei davvero felice di trovare un if O comunque un giocatore che valga qualcosina Perché sono il primo pack opening che abbiamo trovato qualcuno che valeva qualcosina Allora Siamo partiti malissimo Chi è questo? Movis Vabbè Versalico Koblak Qual è la casetta ti prego Almeno tu Io non dico di farmi trovare un Messi, un Ibra, un Ronaldo Ma qualcosina che valga Attenzione Palencia? Eh Penso che lui qualcosina valga Visto che è un 79 oro raro Vediamo Beh 1500 Vabbè dai Qualcosina vale Lui che nel primo episodio mi fece trovare un ottimo giocatore Cioè Peter Cech Vediamo un po' se stavolta ci porta fortuna o no Cruel Poi Questo è un 90 di velocità Vediamo quanto vale Se vale qualcosa 7300 Vabbè Magari ci facesse trovare un bella casetta Che la casetta è fortissima Costa anche un bel po' Cioci Romagnoli Bene Ancora Alexandre la casetta in copertina Vediamo un po' se ce va a trovare qualcuno Questo lo schippiamo Vediamo 3,2,1 Boom Leiva Moschera Mamma mia che giocatori Arnautovic Facciamo così Chiudiamo gli occhi Tanto voi vedete l'animazione Che è molto figa quest'anno Su questo FIFA Attenzione Si sta avvendo Olè Vediamo vedere Basta Basta Pipponi Almeno Speriamo Tra l'altro basta Un terzino Vediamo quanto vale 900 700 Cioè Vale davvero tanto Bene Allora ancora Alaba Almeno tu Dai ti prego Chiudiamo di nuovo gli occhi Tanto voi vedete l'animazione Dei figa Ma poi magari c'è la mia reaction Si spera Bravo Mi sta facendo trovare i laziali Non ho nulla contro i laziali Per carità però Ma all'estero qualcosa Tutti olorari tra l'altro 650 50 1000 Bene Regà Non trovo nulla Dobbiamo fare un rito Oh c'è il Kun Dai Tu che sei in copertina Tu sei Hero Facci trovare almeno Qualcuno Che cazzo Regà qua non si trova nulla Regà Come buttare 20 euro Perché Non ho trovato per adesso Nulla E mi sa che andando avanti Non troverò ancora nulla Vediamo Bauman I soldi Crediti Tutto Regà Non so più che fa Attenzione Ochoa Ochoa Il portierone che ama Johnny Crick Questo là lo ama Johnny Crick Regà Ogni volta anche alle fiere Gioca sempre col Messico Perché Vuole Ochoa in porta Quindi Tra l'altro è fortissimo Senza ombra di dubbio Allora facciamo così Apriamo un pack Da 100 No da 100 Perché tanto poi Devo aprirlo per forza Lo schippiamo Tanto Non fa nulla Infatti Guardate che belli che sono Mamma mia Regà E il Kun Sul dischetto Non va Bene Ultimi due pacchetti Cioè siamo già arrivati Alla conclusione Di questo pack opening Regà Perché ovviamente Con i crediti Non li aprirò mai Visto che costano Un bordello I crediti a comprare E costa tutto Tanto Quindi Mamma mia Che giorno Arnauto C'è ancora Sti pipponi E lo apriamo Così Senza Così Pardo Abbiamo trovato Pierluigi Pardo Con 86 di velocità 76 di tiro Non male Questo giocatore Fosse stato In un'altra Non c'è Le skill Sennò Sarebbe Costato un po' Di più Costa nulla Difatti Non abbiamo trovato nulla A parte A parte Che ci siamo Riempiti Di contratti Ecco Questo pack opening E' stato Un bene Per i contratti Per tutte le forme fisiche Per tutto L'ambaradam Facciamo così Uno lo apriamo Con i crediti E ci salutiamo Abbiamo sputtanato 7500 crediti Così Per cercare Un if Facciamo così Anche se Questo pack opening Non abbiamo trovato nulla Se questo pack opening Quindi Adesso Ovviamente ci metto Sempre i soldi di tasca Perché Ovviamente avete visto Comprato i FIFA points Ma facciamo così Se questo pack opening Arriva A 300 like Io Sputtano Altri 20 euro Quindi Niente raga Vi saluto E vi ringrazio Datatine di tutto Spaccate like Iscrivetevi Perché se no Siete game over Tutti i link In descrizione Datatine di tutto Beh Grazie a tutti